ciao a tutti ben ritrovati con video pep oggi dall'alto del jet lag che mi sta ancora pervadendo tutto a una settimana di distanza dal rientro della gdc stanotte mi sono svegliato alle 4 una roba del genere non ce la posso più fare presumo si veda anche i segni addosso dicevo oggi ho deciso di fare un video che è assolutamente in ritardo rispetto al resto del mondo ma chi se ne frega su una roba che chi ha visto il video della scorsa settimana ha visto che ho estratto dai mille sacchetti della gdc stanotte mi sa che anche la luce che mi sta arrivando addosso non aiuta mi rende ancora più bianco comunque ovvero il google cardboard che era appunto fra le cianfrusaglie che ho raccattato girando per gli stand della gdc insomma l'ho già aperto proprio mentre giriamo quel video adesso faccio vedere cosa c'è dentro lo monto e poi vediamo qua allora c'è questa cosa qui che è un gettone da mostrare alla telecamera del telefono suppongo quindi adesso stacchiamo ha anche il suo bel codicillo qr e insomma adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro e boh magari lo monto direttamente in video e vediamo un po' cosa viene fuori è questa specie di pezzo di cartone peraltro è una roba che si può anche costruire in casa volendo alla fine serve del cartone un elastico una calamita qua e presumo delle delle lenti perché vedete qua ci sono delle lenti però insomma si comprano vari modelli eccetera qui è tutto teoricamente abbastanza semplice nel senso che vedete dice qua si comincia qui e per montare bisogna inserire le linguette nelle fessure corrispondenti seguendo i numeri quindi direi uno in uno così attenzione dove sta il due? il due sta qua e va inserito qua quindi direi così se ma poi a un certo punto c'è una linguetta che rimane fissa il tre nel tre direi qua va bene il quattro nel quattro è tutto bellissimo mi sento abbastanza cretino mi sentirei ancora più cretino quando non funzionerà niente qui abbiamo il cinque nel cinque e lo infiliamo qua così e il sei aaaah peel vedete qua bisogna staccare la copertura in modo da avere presumo la striscietta adesiva eh sono quei momenti in cui dici ma qua forse sarà il caso di fare uno stacco di montaggio ce la stiamo facendo allora è venuto via il primo avevo il timore di staccare via troppo ma in realtà no viene via semplicemente la striscietta bianca e rimane lo spazio colloso quindi chiudiamo bene qua tutto e applichiamo questo presumo qui debba entrare sono le grandi domande ah vedi sì perché poi questo si può spostare attenzione dovrei averlo montato eh eh sì l'ho montato allora quindi qua vedete ci sono le indicazioni che c'è un magnete che bisogna stare attenti alla pioggia all'umidità e che c'è una scatola che tiene in mano non so cosa voglia dire qui di nuovo il codice QR oggetto promozionale e qua c'è l'alloggio per il telefono che presumo vada quindi inserito qua così eh direi di sì e poi si chiude ma è veramente una roba assurda però sì direi così ok va bene adesso scarico qualche app vedo un po' come funziona e poi magari do delle delle impressioni su questa roba ah vedete qui c'è un elastico che permette di fissare il telefono non lo so lo scopriremo solo vivendo allora intanto confermo l'elastico serviva per bloccare il telefono ma siccome sono un animale l'ho fatto partire e non so più che fine abbia fatto l'elastico comunque qui vedete allora l'app cardboard non so se si veda è un è un app da cui che fa un po' da hub di tutte le app legate a cardboard che si sono scaricate e si può attivare il cardboard demo che vedete vabbè adesso vabbè ovviamente c'è il riflesso però vedete che c'è la visione doppia giustamente perché è una roba in insomma 3d realtà virtuale whatever adesso infilo il telefono qua dentro e lo terrò con le dita muovendo in giù questo questo anellino che è legato al magnete si selezionano le varie opzioni quindi adesso io me lo metto cerco di stare nell'inquadratura in pratica ho davanti una serie di comandi posso selezionare non so photosphere che mi permette di vedere una foto sferica che ho fatto facciamo una foto di quando ero in vacanza e devo dire girare all'interno della foto sferica muovendomi con questo cosa non è niente male l'effetto è piuttosto gazzo facendo così in qualsiasi momento ritorno al menu iniziale e posso per esempio selezionare youtube ho davanti un ecco è partito un trailer cos'è non lo so comunque ho davanti lo schermo e attorno ci sono tutti i varie da scegliere sembra di essere in cerebro quello dei film degli X-Men io adesso ho fatto partire e parte davanti a dove sei quindi adesso ce l'ho qua e ho davanti Obama che legge i tweet contro di lui da Jimmy Kim e insomma ci sono tutta una serie di cose del genere che insomma è carina come roba il video però ovviamente lo vedi poi in 2D così torno di nuovo al punto di partenza adesso sto provando e c'è in a room sono dentro una stanza è presumo una specie di avventura sono sì episodio 1 ci sono varie cose da esplorare adesso sono dentro una stanza ah praticamente usando questo comando accendo una torcia elettrica che mi permette di guardarmi in giro e sono sembra la stanza di un serial killer pieno di roba libri articoli di giornale mappe cose del genere e presumo ci saranno cose da esplorare ecco devo dire in una situazione di questo tipo viene per me che ho provato Oculus Rift Morpheus eccetera quindi sono un po' abituato ad avere la rilevazione del movimento mi fa un po' strano il fatto che posso solo muovermi in questo modo e per dire se mi chino o se mi avvicino non posso vedere da sotto o da vicino gli oggetti vabbè queste sono le abitudini le aspettative però avendo provato l'altra realtà virtuale quella più genza questa cosa mi fa un po' strano però comunque l'effetto è molto bello devo dire graficamente non è male c'è un bel ambiente poi vale sempre il concetto in base al quale la grafica anche se non è fichissima comunque nella realtà virtuale l'impatto è bello se le cose sono fatte bene per cui insomma devo dire è piacere allora adesso sono dentro l'app di Insurgent niente meno che è chiaramente pensata per il Samsung Gear è apparsa adesso il logo presentata da Samsung Gear VR e insomma The Divergent Series Insurgent qua già un po' un po' triste perché ho davanti il titolo e però non sono in una stanza dove posso muovermi semplicemente vista davanti ah no ok adesso davanti posso vedere una clip esclusiva Shattered Reality allora qui per selezionare una cosa non devo muovere la calamita basta che sto per una per qualche seconda un secondo o due sopra quello che voglio selezionare sono dentro il film allora è affascinante sta cosa sì vabbè però non mi puoi far vedere tutte queste scritte dai su allora in sostanza sono circondato da roba che mi esplode attorno adesso ho davanti ho davanti Kate Winslet ho davanti il posteriore di Kate Winslet purtroppo non posso avvicinarmi perché non c'è il motion tracking però è fatta bene perché se guardo in basso vedo il mio corpo ma la vera domanda è davvero Kate Winslet o è una contrafigura no è davvero Kate Winslet ciao è tutto molto piatto è tutto molto in 2D però insomma è simpatica come cosa e insomma ho provato questo Google Cardboard allora scomodissimo perché lo devi tenere in mano vabbè poi magari puoi attaccarci dei lacci qualcosa per fartelo stare su io l'ho trovato onestamente è molto scomodo proprio da indossare però immagino lì dipende anche dalla testa che uno ha mi sa che si vede il segno qua sul naso vediamo un po' è abbastanza madonna mi sono distrutto il naso vabbè tra l'altro qua non so se si vede però si si vede c'è proprio la macchia di sudore della mia fronte insomma non è il massimo della comodità però l'effetto è molto figo funziona bene anche con delle app semplici beh si dipende dall'app alcune hanno un bel senso di profondità altre meno però complessivamente per essere roba che gira su un telefono non è male vale sempre il discorso che dicono in molti sviluppatori di app e giochi della realtà virtuale che il fotorealismo serve fino a un certo punto conta di più riuscire a dare il senso di immersione e mi sento dire che è vero perché per esempio nell'avventura quella in cui sei nella stanza e ti guardi attorno devo dire tutto sommato funziona bene anche se c'è il discorso che mancando il motion tracking manca un po' quella sensazione di poterti muovere in profondità che soprattutto se hai provato i sistemi di realtà virtuale che la offrono spiazza un po' il non avere più a disposizione quella cosa però nel complesso mi è sembrato molto buono diciamo che cioè oddio per quel che costano sti cosi uno può anche prenderlo per provare però più che altro mi fa pensare che sarà alla fine buono il Samsung Gear VR come cavolo si chiamerà potrebbe effettivamente funzionare oltre all'avventura quella in cui sei seduto e vai in giro per le stanze mi è piaciuto anche c'era la possibilità nell'app di Insurgent di vedere una clip e ho provato che per la prima volta questa cosa di guardare un film nel cinema virtuale che sei dentro la stanza e hai davanti lo schermo e attorno hai la sala e devo dire non è male quell'idea di vado al cinema con che ne so l'amico che abita a 500 km di distanza o più ci andiamo assieme collegandoci con il visore di realtà virtuale su internet e ci guardiamo insieme il film stando uno fianco all'altro è una roba un po' veramente da disadattati però l'idea di guardare il film in sala grazie al visore della realtà virtuale senza poter perché magari non puoi andare in sala che ne so non vuoi andare in sala quello che vi pare non mi è sembrata male molto spartana la sala di proiezione in 3D però poi alla fine sei lì e c'è lo schermo davanti e la sensazione era di avere davanti uno schermo non immenso devo dire uno schermo da sala media non era IMAX come impatto però funzionava se volessamente mi aspettavo molto peggio da stoccato orcio di cartone comunque è fondamentalmente tutto qua un paio di codici omaggio così per bellezza abbiamo per stima Warhammer 40.000 Dawn of War Domodossola Napoli H Palermo Domodossola X9 Napoli Palermo Milano Lima Atalanta 4 Domodossola Genova e invece per Origin Dead Space il primo 6-7 Trapani Bologna 6 Pistoia Roma Napoli Catanzaro Domodossola Y Milano Coppola Zorro Atalanta Roma K46 Y direi che per questa settimana è tutto sono riuscito a sopprimere il rutto dalla fantastica landa del jet lag che non ti lascia dormire la notte vi saluto ci vediamo quando capita mi raccomando questa settimana a meno di imprevisti dovrebbe arrivare il podcast l'autocast reportage sulla GDC penso sarà abbastanza interessante e forse anche una sorpresina legata ad Outcast Sound Shower ma vabbè non mi sento di fare promesse particolarmente convinte ciao e grazie ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.